ecco per chi ha chiesto cosa faccio quando ho la voglia pazza di dolce sai che qua tutti chiamiamo il mingao che è la papa di avena però questo a parte che è istantaneo e velocissimo e al cioccolato con pezzettini di cioccolato quindi sei cucchiai guardate pezzettini di cioccolato poi 120 ml di bambini 120 ml di acqua calda e voilà basta aspettare tre minuti circa poi a me piace mettere anche un po di protein musli giusto per una croccantezza e i coconut chips che sono i chips di cocco che purtroppo stanno finendo e vola e ragazzi una cosa più buona che si può mangiare il pomeriggio perché vuole un gelato adesso dobbiamo mangiare ok si va a prendere il papà vieni pazzo vieni mi sei truccata sei bellissima sei bellissima racconta il rumore cosa è successo raccontalo papà no tu volevi il gelato vero? si e poi? e poi la patata la patata è buona e poi la patata è buona e non l'ho buona e? si vuole un po' con l'ecco al cuoco e poi? e poi niente e perchè sei rabbiata? no sono gente sei triste perchè sei triste? perchè? Eh? Perché sei triste? Perché volevo... perché volevo quelle robe... Che? Quale robe? Eh? Quali robe, scusami? Pazzino! Lascia qua, papai. Lascia qua. Non vuoi papai? Vabbè, tu non sei qua. Amore, preparati per la... per l'adolescenza, eh? Sei pronto? Sei pronto? Sì, sono pronto. Ho sbattuto la porta. Eh? Ho sbattuto la porta. Apeis! What? Apeis! Why do you invent words? Because I'm French. Ah, you're speaking French? Yes! Oui! Eh, Livy, racconta al pubblico perché eri triste. Un leproto! 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 Se wheelando... non so!!!! Leproto! Non so! Se uve! Non so! Livy, però devi condivider e con tuo fratello, perché se só tem um. Ok? Non so, Foch e... Non Leon charlie la plastica! Un va in da scola quando che fasco, perché stai età il tuo fratello. leo è obsesato con il suo lavoro è obsesato è un piccolo nerd come la mamma piccolo nerd come la mamma ha il cervello della ok mi piace talmente tanto che cancella e rifà i eat i eat 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,4 ma è 4 no e se no 3,4 vai che la tratta è capocciosa adesso imparo da te dai di nuovo 1,2,3,4,5 1,2,5 1,2,3,4,5 ok 1,2,4,5,6 no quello è 5 e questo è 4 ti faccio vedere io vediamo oddio oddio